come abbiamo visto l'altra volta, le equazioni di secondo grado si presentano nella forma a x alla seconda più bx più c uguale a zero con la condizione che ha il coefficiente di x alla seconda non sia nulla abbiamo visto che i coefficienti a, b e c concorrono a determinare la grandezza delta discriminante di a seconda meno 4ac il cui segno distingue o discrimina meglio la presenza o meno di soluzioni reali visto che se il delta è maggiore di zero abbiamo due soluzioni poi vediamo come sono espresse se è uguale a zero se il delta è nullo ho due soluzioni coincidenti che sono lo stesso numero se il delta è negativo nessuna soluzione l'espressione delle soluzioni dell'equazione è quando ci sono quindi se il delta è maggiore o uguale a zero i due numeri x1 e x2 che risolvono l'equazione sono dati da meno b più o meno la radice del delta diviso due volte a ok? fin qua l'abbiamo già visto l'abbiamo anche visto che posto che le soluzioni ci siano cioè che il delta non sia negativo allora se indichiamo con x1 più 2 la somma s delle soluzioni questa può essere espressa semplicemente come meno il rapporto tra il coefficiente b e il coefficiente a nell'equazione cioè se prendo l'opposto di questo numero diviso questo ho la somma delle soluzioni mentre il prodotto qui x1 per x2 è il rapporto di c fratto a il terzo coefficiente diviso il primo vi da il prodotto delle soluzioni d'accordo? questo questa proprietà, queste relazioni possono essere utili per costruire un'equazione che abbia determinate soluzioni se per esempio mi serve costruire un'equazione che abbia due numeri come soluzioni è sufficiente che io ne calcoli la somma ne calcoli il prodotto e poi da questi trovo i termini i coefficienti dell'equazione perché? perché torniamo all'equazione di partenza se a non è nullo allora posso dividere per a quindi l'equazione diventa x alla seconda più b fratto a x più c fratto a uguale a zero quindi ho diviso per a ma questo numero b su a è l'opposto della somma perché la somma è meno b su a e c su a è uguale al prodotto quindi se voglio che se cerco una equazione di secondo grado con x1 e x2 come soluzioni allora è sufficiente x1 e x2 mi consentono di calcolare la somma x1 più x2 il prodotto p x1 per x2 e quindi l'equazione che cerco sarà x alla seconda meno la somma delle due soluzioni per x più il prodotto uguale a zero facciamo un esempio scegliete due numeri qualsiasi come soluzioni ecco se voglio che la prima soluzione valga scegliete un numero due la seconda soluzione tre allora la somma due più tre cinque il prodotto due per tre sei l'equazione che cerco x alla seconda meno la somma x più il prodotto uguale a zero cioè x alla seconda meno 5x più sei questa è la mia coluzione e ovviamente tutti i suoi multipli è facile verificarlo la riscrivo io ho a vale 1 b vale meno 5 c vale 6 il delta è 25 meno 24 cioè 1 quindi ho due soluzioni x 1 e 2 sono meno b cioè 5 più o meno radice di delta che è 1 diviso 2 volte a che è 2 quindi 5 più o meno 1 mezzi 5 più 1 6 diviso 2 è 3 5 meno 1 è 4 diviso 2 è 2 2 e 3 sono questo è scritto male ma è un 5 questo è scritto male ma è un 5 questo è scritto male ma è un 5 che abbiamo già visto sono un po' di oggi quello che avevamo ancora visto è quanto segue torniamo a il trinome di secondo grado e supponiamo che questa abbia un delta non nulla cioè che esiste un x1 e un x2 e soluzione dell'equazione associata allora possiamo fare questo questo usare questa tecnica per scomporre in fattori il trinomio e questo vi da la motivazione la motivazione del prima o poi non mostro il trinomio caratteristico una delle tecniche di scomposizione era il trinomio caratteristico quello che c'è sotto in realtà discende dalla tecnica che si risolvono le equazioni di secondo grado ripeto se ho un trinomio di secondo grado con un delta non nulla allora posso fare quello che adesso vi mostrerò la magna, la colgo a la tengo x alla seconda più b su ax più c su a b su a è l'opposto della somma della soluzione dell'equazione c su a è il prodotto della soluzione quindi questo posso scriverlo come sempre a per x alla seconda meno la somma x1 più x2 per x più il prodotto x1 per x2 abbiamo fatto altro che sostituire a b su a l'opposto della somma e a c su a il prodotto togliamo questa parentesi tonda quindi svolgiamo il prodotto meno x1 x meno x2 x più x1 per x2 adesso possiamo fare un raccoglimento parziale a coppie dentro la parentesi quadra dal primo e dal secondo termine possiamo raccogliere una x quindi x meno x1 dal terzo e dal quarto termine possiamo raccogliere un meno x2 adesso due termini hanno in comune x meno x1 e possiamo fare un raccoglimento totale e otteniamo quindi infine posso cambiare pagina? abbiamo quasi finito abbiamo quasi finito abbiamo a per x meno x1 per x meno x2 quindi in sostanza a x meno seconda più bx più c se ho un delta maggiore o uguale a zero può essere scomposto in a per x meno x1 per x meno x2 cioè il prodotto di due parentesi del tipo x meno un numero dove la somma di quei due numeri è l'opposto della posta di su a e il prodotto è la posta di su a questo si può fare ovviamente solo se il delta è maggiore o uguale a zero cosa che all'epoca del trinomio caratteristico non potevo dirvi perché la condizione del il fatto che il trinomio sia scomponibile o meno è legata a questa condizione non sempre il trinomio caratteristico si può utilizzare non è sempre scomponibile quando è che è scomponibile? è scomponibile solo se i coefficienti del trinomio hanno una particolare caratteristica cioè quella di avere un delta non negativo e questo ahimè nel metodo del trinomio non può essere spiegato perché a quell'epoca le questioni di scomponibile non le avevamo ancora fatte e questo secondo me è una scuola è un metodo che non siete grandi decideri se potete utilizzare adesso invece lo so per esempio supponiamo di dover scomporre x alla seconda meno 10x più 21 scomponiamo il fattore questo trinomio qui abbiamo A che vale 1 B meno 10 e C più 20 calcoliamo il delta per sapere se il trinomio è scomponibile B alla seconda meno 4 C cioè B alla seconda 100 meno 4 per 21 100 meno 84 è positivo il trinomio è scomponibile il fattore delta è 16 quindi x1 x2 cioè i due numeri che annullano il trinomio sono meno B più o meno radice di delta di 2A cioè B era meno 10 quindi ho 10 più o meno radice di 16 diviso quindi con il più ho 10 più 4 14 diviso 2 7 con il meno 10 meno 4 6 diviso 2 3 le due soluzioni sono 7 e 3 quindi posso utilizzare questa regola e x la seconda meno 10x più 21 è scomponibile in A che vale 1 non lo metto lo mettiamo 1 per x meno la prima soluzione 7 x meno la seconda se invece attenzione il delta è nullo non c'è modo di scomporre il trinomio quindi me lo tengo così com'è ok per esempio x la seconda più x più 4 non è scomponibile A vale 1 B vale 1 C vale 4 il delta è 1 meno 4 per 4 il delta è negativo non posso scomporre il trinomio perché non esistono x1 x2 da utilizzare quindi non c'è posto non c'è la necessità di scomporre il trinomo di secondo grado si presenta A quando devo semplificare una frazione algebrica per esempio e B quando devo risolvere una disequazione di secondo grado B in quel caso la scomposizione mi dà la chiave di volta se non ci sono domande se non ci sono domande che non c'è